Furbo eh, questo è furbo Urbo Bene ragazzi e ben ritornati sul mio canale, io sono Barry Ragazzi miei, ragazzi miei, siccome so che le solo vi piacciono tanto Ieri sera, prima di staccare, ne ho giocate un paio, in realtà una perché è la prima No, ho fatto un bello start, non mi ricordo come sono morto Questa è la seconda ed è una gran bella win È una gran bella win dove ho fightato per tutto il tempo E ne approfitto nella intro al volo La classe raga la trovate nel video precedente, ve lo dico subito Comunque ne approfitto perché in live ragazzi, giocando in live Mi sono accorto che questo gioco nelle singolo è estremamente divertente Io non so se è una mia impressione, ma giocare le solo mi piace 300.000 volte di più che giocare le altre modalità E forse, ragionando adesso, è per i autoress Il fatto che i saldi garantiscono l'autoress a tutta la lobby In solo, bene o male, se tu fighti l'altro l'autoress ma lo finisci subito A parte quello che accadrà qua raga, non avete idea cosa è successo in questa barita Morirete da ridere una certa Però penso che sia quello il motivo Secondo me raga i saldi sono da eliminare Perché danno veramente, rendono i fight infiniti e anche un po' noiosi sinceramente Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi Spero che vi possa succedere un bel mi piace Mi raccomando boys, vi aspetto in live come tutti i giorni Bella ragazzi Secondo me va un botto di gente ad airfield ragazzi Infatti, un botto no però un po' di gente sta andando dai Ma questo raga aveva trovato veramente due stun qua dentro Che culo Che culo Mamma mia che culo veramente Barricate, raga le barricate troppo forti eh Da tenere Minchia questo Quest'arma ragazzi Come faccio a usarla? Cosa cazzo è? Era un vibratore Oh questo è buono eh Questo è molto buono raga Questo raga è un signor start questo eh Raga questo è un signor start Raga questo qua è SMG di Cristo Comunque raga boh posso dire una roba A me piace di più le solo Questa mappa qua raga le solo le giocherai tutto il giorno A tutto il giorno giocherai le solo Caro mi diverto 100x a giocare con il maestro Push, God e tutti quanti eh Però Minchia quanti raga Dai minchia raga Ma posso essere pinciato da uno che gioca con l'aereo? Ragazzi Minchia se muoio però mi incazzo eh Ma raga ma questo veramente è uno psicopatico sto tipo ragazzi Ma questo che cazzo sta facendo? Due ore che fa avanti indietro per cercare di uccidermi Ma un pazzo raga questo Oh il cecchino ne è solo ragazzi Va sempre preso Tanto sto coso qua è forte sia da vicino che da lontano Non so da dove minchia ma preso raga Oh poi quello posso dire una roba raga Un fenomeno a guidare Questa c'ha l'elicottero dall'aereo dall'inizio Oh non muore eh Mancecchinato Eh non potevo Andiamo là No no andiamo là il cazzo andiamo là Do minchia vado però Boh raga il nerf di senso di tomba In tutta sincerità raga Zero Cioè secondo me è forte tanto quanto prima Minchia c'ho la taglia addosso Taglia addosso con un bel bar blu Questo all'uavraga Hai girato verso di me Cento per cento Però non sa che c'è l'altro lui Cioè ma veramente ragazzi State teammando Chi saldi Sono un coglione perché potevo fare No questo mi voglio prendere Questa qua è sotto Quello è in open però Qua sono due Andiamo da questo Ok Minchia questo aveva preso Mi sa uava manetta raga No Si un uav l'aveva preso però No l'automaton raga L'automaton Come cazzo Si chiama bellissimo Quest'arma raga spinge Cioè spinge Sniper support è devastante Bastante Mamma mia raga Cominciare un fight Raga ma pensate se adesso Da qua spunta fuori Il maestro giumelli No non era lui Era Grinder Questa è stata la mia Per chiedere Per dirgli grazie Figa raga Ma sta scena raga Sembrava minchia un'ambulanza Questo Nino 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 Oh fede Metti il simbolo Il segno del cosi Il suono dell'ambulanza Nino Nino Ficca incredibile Oh con un tempismo No me lo meritavo però Dai oh questo Ha vinto un fight Solo grazie alle stun Sono morto Vinto un fight Grazie alle stun Quel tipo Dove cazzo è questo Dove Cristo è questo In chiaro raga Questo Una mano dal cielo Divina Ma io raga Sono un coglione Ma io stavo il dando Come se questi Dovesero venire Verso di me In effetti Cazzo Ok qua si per dire Invece oldo Perché Bella sta zona Ma che cazzo è Quella raga Cos'è sto robo Bello qua Non sono mai stato Tu quel loot Raga ce n'è una marea Cioè guardate Tutta zona ancora da lootare Qua eh Tutta zona da lootare Questa ragazzi In endgame Mai viste delle casse Da aprire in endgame Su Verdansk Loot è quadruplicato Che è il motivo Per cui ovunque vai C'è un auto res Nei fight Allora uno Allora ragazzi Qua si fightavano Uno per forza Ne è uscito vivo Dal fight Ma la domanda è Da dove cazzo Spunterà fuori Wow Ok Ma non lo vedo Questo manco lo vedo Raga tra un po' Dove cazzo sta Era nell'angolino Ma dov'è Dove cazzo è Furbo eh Questo è furbo Furbo Ora 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 Cioè ragazzi Se vi dico cos'è capitato Non ci crederete Ho distrutto il suo C4 Col mio E mo la vera domanda è Ma l'ultimo Dove cazzo eh È là raga Mi sa che è là Perché ci sono alzati i piccioni Uè è una cazzata Io non ho mai capito Se quella roba Raga è una cazzata o meno Lo scopriremo a breve Perché se adesso muoio a destra No è una cazzata Perché sono anche mossi di qua Ma invece qua veramente Raga è lì dentro È sotto di me Bella Bella win Bella win Raga le solo Secondo me ragazzi Le solo Sono 100x Le altre modalità Su sta minchia Raga Le solo Proprio divertenti Da giocare Le solo Veramente divertenti Da giocare E considerate raga Che era la seconda Questa che giocavo Tanta roba raga Secondo me Questa mappa qua Per le solo È perfetta Non so perché Però Non so che cazzo Non saprei dire il motivo Non saprei dire il motivo Però è perfetto Per giocarsi le solo Tanta tanta roba Raga Tanta roba Bel game cazzo Bel game Pulito Blessato ragazzi Da quel camioncino L'ambulanza